Ciao, quante volte la nostra autostima va sotto i tacchi e quante volte ci sentiamo condizionati dalle persone e quante volte avviene anche che non siamo noi stessi fino in fondo perché abbiamo paura di esporci, abbiamo paura di non essere all'altezza, abbiamo anche il telefono detto sì, è vero, abbiamo il terrore di non piacere. E quindi cosa succede? A tutti i livelli, a tutti i livelli penso sia determinante una sana autostima. Ecco perché ho creato un videocorso che vedo che piace molto perché si orienta in più fasi. Una parte tratta come andare a frantumare i sassolini del passato che ci fanno ancora male, un'altra parte va a farti comprendere come si può promuovere e premere il tasto giusto per incrementare l'autostima e un'ultima parte va a lavorare proprio su una sorta di viaggio dell'eroe per trasformarti in quell'eroe che è dentro, per toglierti tutta la patina, la paura che ti porta ad avere il freno a mano tirato. Anche perché spesso persone che ottengono tanti risultati vengono viste come dei supereroi già nati. Ecco, ho scritto anche questo libro con una mia cara amica, l'abbiamo condiviso perché eravamo stanchi che le persone pensassero che per noi era facile e ci dicessero è facile per te che sei, che hai e che fai. Ci mettiamo in gioco sempre e siamo partiti anche noi da situazioni in cui l'autostima era un po' così e poi grazie agli strumenti che abbiamo preso via via durante il percorso abbiamo imparato a incrementarla e a brillare d'immenso, illuminarci d'immenso. Ti aspetto, fammi sapere come ti trovi. Ciao, ciao, ciao!